Il Natale è per te, nel senso da quanti anni non vivevi questa festività? Diciamo che è stato brutto anche il Natale recente con Campilongo, perché insomma non eravamo nell'obiettivo prefisso, quindi come posizione di classifica invece dobbiamo tornare ai tempi di Mancano al 98-99, insomma certo ci dispiace molto, ma d'altra parte ripeto non è che siamo amareggiati per la sconfitta con Verona, Verona che, lo ripeteremo ancora una volta, ha stabilitato di vincere, ha dato sempre l'impressione di voler comandare la partita, di poter farci il servizio in qualunque momento, è come quando una coppia decide di copulare, una coppia etero decide di copulare, non è che al primo minuto, al secondo minuto no, tante e tante fusioni fino a che pozzacca e succede quello che succede, è la stessa cosa ha fatto il Verona, le fusioni sono quelle palle gol che ha avuto all'inizio, poi dopo c'è stato appunto il gol che ha segnato al Foggia, quindi in qualsiasi momento, ripeto, il Verona ha dato l'impressione di dominare l'avversa di essere parola del campo, poteva raddoppiare, poteva triplicare, è stato veramente bravo Bindi e la difesa del Foggia si è aperta parecchio, altro che sono tre partite che non subiamo, sì, contro la Spal, contro la Cavese non si subisce, e poi col Verona, quindi c'è da lavorare molto, c'è molto da fare, non sappiamo a gennaio che cosa succederà, proprio non abbiamo la minima idea, certo così non si può continuare, perché il Foggia, l'abbiamo visto prima, direggendo attentamente la classifica, paga sia il rendimento scarso nei confronti diretti, battuto soltanto l'Andrea, che è l'unica che ci segue per il momento, perché poi fra poco arriva anche lo scontro, dopo Giulianova c'è l'Andrea in casa, ma oltre ad andare a vedere noi sempre che la difesa è la peggiore, non è la peggiore, adesso credo che sia la terza, quarta peggiore difesa del campionato, il problema grave è l'attacco del Foggia, l'attacco ha segnato quanto la Cavese, 15 reti sono pochissime in 18 gare, per una squadra che ambiva a stare a metà classifica, quindi direi che non possiamo neanche scrivere a Babbo Natale, perché Babbo Natale anziché portare qualcosa a Foggia, dovrebbe portarsi via da Foggia pecchia e porta, ma insomma non è che… certo una letterina io gliela farei, visto che questo è l'orario della fascia protetta, ci sono tanti bambini all'ascolto e quindi direi a Babbo Natale di aiutare il Foggia, di far andare via l'allenatore, di portarci un altro allenatore, di portarci un regista, una punta, di portarci una dirigenza che non ci faccia andare a finire in eccellenza, insomma tante cose, però poi cari bambini che siete all'ascolto vi devo deludere, Babbo Natale non esiste, Babbo Natale non esiste, quindi non pensate, ve lo garantisco, non esiste, ma è una favoletta che vi raccomando, come Topolino, Paperino, sono disegni animati, l'orso ioghi e così è Babbo Natale, è un disegno che si fa, ma Babbo Natale non esiste e siccome non esiste staremo sempre di più nella tristezza e nella pupù. Vabbè ogni tanto il pepino è così, ma li vedi risultati, ma che cosa devi accettare? Ma ci rendiamo conto di come stiamo messi male in classifica? O sono tutte rose e fiori, o nessuno fa niente, qua nessuno interviene, la situazione è grave, è molto grave, ripeto, il Foggia non è, allora Caraccio non segna, non tira in porta, Ferrari tira in porta ma non segna, l'attacco è sterile, ma la sterilità non è che si evidenzia perché il Verona non ha mai preso una rete fuori casa, è la stessa sterilità avuta contro la Cavese, avuta contro il Marcianise, avuta ad Avezzano, ci rendiamo conto che non siamo capaci di far male a una mosca in noi davanti lì, oppure no, oppure stiamo sognando, oppure stiamo inventando, perché noi siamo quelli che ce l'abbiamo con, siamo quelli che vogliamo fare la polemica ad ogni costo, non è così, noi diciamo queste cose perché sono cose inconfutabili, guarda questo tiro di Quadrini, cioè Quadrini deve giocare nel Foggia, uno che a Pistoia, squadra retrocessa, faceva la riserva, ecco che Babbo Natale, si dice a Fusco, porta altrove gente come Sgambato, D'Agostino e Quadrini, vediamo a quale squadra glieli va a piazzare l'anno 21, non è bello insomma quello che vediamo la domenica, poi ripeto, ognuno può pensare diversamente da me per carità, però io sono molto deluso deluso e amareggiato, gesse ogni tanto le pagelle, degli altri, non le nostre, quelle degli altri, quelle degli altri, si piacesse anche lui la raccolta di tutti i pagellini e vedesse come questa squadra che lui ha costruito, giusto per dirle in napoletano, insomma gli è sempre più una chiave, così forse si rende meglio conto dell'opera sua quale è stata, lui dirà ma non avevo i soldi per fare uno squadrone, l'obiettivo è un altro, tutto quello che volete però, a tutto c'è un limite, è veramente, insomma, persino Salgado ha deluso i tifosi, ieri i tifosi hanno esposto uno striscione che io condivido, non condivido però i mortaretti, non condivido le cipolle, i fumogini, non condivido i petardi, quelli no, quelli non li condivido perché sono atti proprio sciocchi, però far capire a Salgado che ha sbagliato, far capire a Salgado che non può penalizzare Foggia, il Foggia e anche i suoi compagni è stata la cosa buona e giusta. Senti, che ti aspetti dal 2010? Non lo so, veramente non lo so, mi aspetto la salvezza sul campo, la restituzione del punto, la salvezza sul campo e poi chissà il 30 giugno che succede, qua c'è gente che dice che è il 20 dicembre del 2012, pensiamo al 30 giugno del 2010 che veramente ci potrebbe essere la fine del calcio a Foggia, quindi pensiamo a guardare nel nostro orticello, che mi devo aspettare? Mi aspetto che la squadra cominci a fare risultato, però andare a Giulianova senza Salgado non è la stessa cosa che andare con Salgado, quindi aspettiamo, non so se la società ha intenzione di far ricorso, ma credo che le due giornate siano insindacabili, quindi siano anche irremovibili. Che mi devo aspettare Massimo? Lo vedi, la classifica è quella, la situazione è quella, ma che cosa ci vogliamo aspettare? Ogni tanto vediamo pure i quadrini in campo, per fortuna sgambate da Agostino non li stiamo vedendo più, però quadrini ogni tanto ce li dobbiamo sciroppare, quella è la forza del Foggia. Ecco, ma hai invocato il cambio in panchina, credi che potrebbe bastare un nuovo allenatore per risollevare le sorti di questo Foggia? Almeno per battere le deboli sì, con un nuovo allenatore magari perdi lo stesso col Verona, però per battere le deboli sì, perché loro con le deboli, tranne che da altri, non hanno mai vinto e quindi è chiaro che un allenatore più bravo riuscirebbe anche con quello scarso materiale di cui si è a disposizione a fare qualcosa. Chiaro che vorrei oltre all'allenatore anche un regista, una punta, non sono desideri, sono sogni, è diverso, c'è una differenza tra i desideri e i sogni.